Se cercate crediti andate su FIFA Coins Buy, un sito economico veloce e sicuro, trovate in descrizione il link più il codice del 6% di sconto. Bella a tutti ragazzi, Corgasmic e sono qui con un nuovo squad builder, abbiamo una squadra a ragento che ho portato sul mio canale proprio perché sono riuscito a trovare, come avrete visto nella miniatura, Fabian in forma, un giocatore a ragento con delle statistiche veramente molto buone per cui ci volevo fare una squadra attorno. La squadra non costa tantissimo quindi è alla portata penso di tutti, ho usato il 4-4-1-1 che è il mio modulo preferito quest'anno, mi trovo molto bene e si possono fare tanti bei collegamenti. Quindi partiamo subito impostando qualità argento, il portiere ho utilizzato Burki del Friburgo a versione argento, ho ricevuto anche delle versioni oro, questo giocatore, una versione oro forse non mi ricordo, con delle statistiche. Questo giocatore è molto buone, di tuffo e riflesso soprattutto che sono le più importanti, presa vabbè ci può stare, così bassa, piazzamento un po' meno, infatti delle volte prende dei gol un po' stupidi appunto a causa del suo piazzamento, però per il resto penso sia un ottimissimo portiere che ha dei riflessi assurdi, è molto alto, abbastanza alto, non costa tanto e comunque sia vi garantisce sempre qualche ottima parata. Poi come difensore terzino di destra ho utilizzato Dick Meyer che come avrete visto nella top 5 è uno dei miei terzini preferiti perché è velocissimo, è forte in difesa, ha un buon passaggio, un buon fisico, è alto e soprattutto mi ha fatto un gol e due assist in tante partite che l'ho utilizzato. Comunque costa tanto come giocatore, 23.000 crediti, però secondo me li vale tutta la vita. Poi come difensore centrale di destra ho utilizzato un non raro che secondo me è uno dei migliori della Bundesliga, cioè Rudiger che è velocissimo, è molto simile a Boateng però versione silver, diciamo un silver Boateng con delle statistiche veramente molto alte, anche lui proprio come altezza è alto, costa tanto però veramente forte. Poi andiamo con il difensore centrale di sinistra, ho utilizzato Juru più che altro per intesa, per fare un collegamento, però anche Juru è un buon giocatore, molto alto, work da difensore è proprio perfetto, discreta velocità, ha buoni valori di difesa fisica, quindi secondo me questo è un buon giocatore. Mentre come terzino di sinistra adesso bisogna cercarlo bene perché è un non raro, più che altro l'ho usato per l'intesa, cioè il duce Benito che comunque non è malissimo, oddio, non è il massimo della vita perché come vedete non ha delle statistiche molto alte, ripeto l'ho utilizzato solo per intesa, ha una discreta velocità, ha un discreto fisico però il resto delle statistiche sono abbastanza disastrose. Però andiamo con il centrocampo, con l'esterno di destra che ho utilizzato Corona, Corona non perdona, che è la versione upgrade, peccato che non ha le 5 serie abilità, sarebbero state la ciliegina sulla torta, è un ottimo giocatore, con predatore aumenta di tiro e passaggio che sono un po' le sue statistiche meno alte, purtroppo si ha un fisico un po' bassino, quindi contro i giganti la perde praticamente sempre. E come succede a me con la maggior parte degli esterni non incide tantissimo, però nei contropiedi ci sta, ha un buon dribbling, quindi salta l'avversario, secondo me è un buon giocatore. Poi al centrocampo troviamo come CC di destra, giocatori che comunque ho utilizzato tanto, cioè Vasquez, messicano appunto con delle statistiche improponibili, veramente molto alte e soprattutto una velocità assurda. E tra l'altro è un centrocampista centrale difensivo, che comunque fa tanti gol, cioè in 18 partite 4 gol, secondo me è una buona media per un CDC aggiustato a CC. Mentre il suo compagno di reparto è ovviamente, non può mancare il Pegna, il Silver Gullit, che tra l'altro ho Gullit proprio scritto sulla maglia, non so per quale motivo. Anche lui molto simile a Vasquez, un po' meno difensivo, un po' più offensivo, statistiche altissime, anche un buon tiro dalla distanza. La segna, paradossalmente mi ha segnato meno Pegna di Vasquez, però mi ha fatto comunque tanti assist e quindi penso che sia uno dei migliori centrocampisti o quantomeno il più completo, uno dei più completi su FIFA Team e Team, parlando ovviamente di Argento. Mentre come esterno di sinistra ho utilizzato un altro giocatore utilizzato molto tempo fa, cioè Ola John. Mi è piaciuto, ha una buona velocità, un buon dribbling, 4 stelle abilità, 4 stelle piede debole, un buon passaggio, un discreto tiro, mi ha fatto un solo gol in tante partite, però vabbè l'ho utilizzato anche in altre squadre. No, comunque devo dire che mi è piaciuto, purtroppo i due esterni hanno questo handicap di avere il work rate normale basso, tutte e due hanno lo stesso work rate e questo non li rendono i migliori esterni del mondo, però comunque sia sono abbastanza buoni. Andiamo con il giocatore dello squad builder, il giocatore più importante, quello per cui poi ho portato questa squadra, cioè Fabian in forma, come potete vedere ha delle statistiche altissime, davvero mi sono piaciute tantissimo. È un giocatore che mi è piaciuto tanto, che mi ha fatto in 9 partite, considerando che vabbè le partite sono un po' del cavolo, nel senso che molti mi hanno quittato, molte volte le partite erano un po' laggose e delle volte mi sono disconnesse, proprio per la mia connessione. Comunque sia 5 gol in 9 partite, comunque una buona media per un trequartista aggiustato ad AT, un solo assist, mi aspettavo qualcosa di più, questo giocatore ha un gran tiro, davvero un tiro dalla distanza pazzesco, un buon passaggio, ha un ottimo dribbling con 4 stelle abilità, anche 4 stelle piede debole, quindi tirate anche di sinistro, fa poca differenza, ha una discreta velocità, anzi direi una buona velocità. La cosa che non mi è piaciuta è il suo fisico, cioè 67 di fisico è accettabile, ma lui è alto 1,71, quindi le perde praticamente tutte con i giocatori un po' più forti di lui, e questa è la cosa che non mi è piaciuta di questo giocatore, però per il resto è davvero buono. Mentre l'attaccante è un po' così, l'ho dovuto mettere per l'intesa più che altro, sennò dovevo stravolgere completamente tutta la squadra, adesso ora che lo troviamo ci mettiamo un po', ecco qui Castagnos, io mi ricordavo un Castagnos in FIFA 13 forse, un FIFA 12 non mi ricordo, davvero molto buono, mi ha un po' deluso quest'anno perché mi ha fatto pochi gol, però mi ha fatto tanti assist, l'ho utilizzato più diciamo come smistatore di palloni in attacco. Lui come vediamo comunque ha delle buone statistiche, a parte il dribbling che non è il massimo della vita, lui è molto alto, ha una discreta velocità, un buon tiro sulla carta, un discreto passaggio per un attaccante, da qui 5 assist e un buon fisico. Purtroppo ha solo le due stelle prededeble, quindi di sinistro fa un po' schifo, non so, il resto delle statistiche tipo piazzamento, finalizzazione, comunque dovrebbero essere buone, non so perché questo giocatore non mi ha mai fatto ecco la differenza in game. Comunque questa è la squadra, è una discreta squadra nel senso che ha dei buoni collegamenti, quindi mi piace, purtroppo ripeto offensivamente quel Castagnos non è il massimo, però comunque sia i gol li fanno perché comunque sono tutti i giocatori che riescono ad andare in gol, soprattutto i centrocampisti. Quindi ragazzi, se questa squadra vi è piaciuta lasciate un bel like, 300 mi piace uscirà un nuovo video, la prossima squadra che vi porterò sarà quella di Manet Record Breaker che ho trovato in un pacchetto, come avrete visto nel video, e quindi vi porterò una ibrida con Manet e poi fatemi comunque sapere nei commenti qualche altra squadra che volete o nazionale, quello che preferite. Iscrivetevi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate come sempre in descrizione, adesso vi lascio il clip, ci vediamo al prossimo video, bella rai! I will fly I will fly I will fly I will fly Grazie a tutti.